Sangue e orrore a Mercato San Severino, un giovane in preda ad un raptus di follia, strangolato e ucciso madre e sorella. L'episodio si è verificato nell'abitazione familiare, sita a Mercato San Severino, una traversa di via Luigi Cacciatore, a pochi metri dal corso Diaz. A compiere il gesto, un giovane sulla Trentina, Giovanni De Vivo, presumibilmente con problemi psichici, ha strangolato la madre, Clara De Santis, e la sorella minore, Deborah De Vivo, e ha poi tentato di togliersi la vita. A bloccarlo sono stati vigili del fuoco, che con una scala sono entrati direttamente dal balcone, visto che la porta blindata dell'appartamento era bloccata dall'interno. Continuano ad affiorare particolari sempre più inquietanti sul duplice omicidio. Secondo quanto trapelato, sembrerebbe che la madre e la sorella siano state uccise la sera precedente, quella di ieri, lunedì 3 agosto. La madre è stata ritrovata in bagno, mentre la sorella è in camera da letto. Intanto trapelano le prime indiscrezioni e sembrerebbe che da un primo esame esterno sul corpo, la sorella sia stata colpita anche da colpi di forchetta. La dinamica, le urla, hanno attirato alcuni vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. Il giovane sembra soffrisse di problemi mentali e, come raccontato dai vicini di casa, era quasi una consuetudine udire ad ogni ora del giorno e della notte le urla provenienti da quell'appartamento al primo piano. Dopo aver sfondato il vetro del balcone, si sono introdotti all'interno dell'appartamento i vigili del fuoco che hanno trovato i corpi delle due donne e l'omicida in una pozza di sangue con alcuni tagli che si era provocato presumibilmente con un coltello. Il giovane stato soccorso è portato d'urgenza al vicino sperale di Salerno, scortato da una macchina dei carabinieri. Alle 15 è arrivato sul posto il PM Amedeo Sessa della Procura di Nocera che ha effettuato il sopralluogo.